Poco fa è stato annunciato un importante risultato ottenuto da INEF col telescopio Astri. Il telescopio Astri è il prototipo di una classe di telescopi che sarà implementata nel grande telescopio per raggi gamma CTA, Cerenkov Telescope Array e ha la peculiarità di essere un telescopio a due specchi, mentre fino ad ora per questo approccio osservativo erano stati usati solamente dei telescopi a singolo specchio. Questa nuova tecnologia ci permette di avere un campo molto più grande e di usare delle camere molto più compatte e in questo modo poter cacciare con maggiore efficienza, che è un'efficienza veramente ottima, i segnali a più alta energia e quindi andare a scoprire l'origine dei raggi cosmici più intensi. Questo telescopio è stato realizzato a livello prototipale ed è operativo sulle pendici del Monte Etna. Dovranno essere fatti altri 70 con anche un precursore, il cosiddetto mini array Astri, che comincerà a lavorare prima nei prossimi anni. L'annuncio è stato dato in questi giorni proprio perché a Bologna c'è il primo simposio scientifico dedicato al grande osservatorio CTA, il futuro osservatorio di raggi gambi da terra, con due siti, uno al nord, nell'isola di La Palma, alle Canarie, e l'altro al sud, in Cile, a Paranal, che sta per essere realizzato grazie a una collaborazione internazionale che vede quasi 1.500 scienziati ingegneri che lavorano insieme, provenienti da una trentina di diversi nazioni. Perché a Bologna e perché proprio in questi giorni, a Bologna perché Bologna ospita gli headquarter, cioè il centro direzionale dell'osservatorio, e in questi giorni perché finalmente è iniziata la fase implementativa dei due siti e nel giro di pochi anni potremo fare osservazioni nelle raggi gamma con sensibilità mai raggiunte in precedenza. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori,